I prepagni concorrenti della finale A 4x4 Finale A 4x4, il prepagno Gasco rosso per la macchia numero 6, diviso, bisogno di audio, 16 e 2 Dopo 50 secondi, 1, 6, 5, 2, 4, 3, 7 Gasco rosso per la macchina numero 3, passato, graffi, con un 15,3 Un minuto e 30